Dal lato c'è stata l'archiviazione per l'accusa di falso, dall'altra c'è oggi la richiesta di rinvio a giudizio per l'omissione. Si parla ovviamente della situazione di un anno fa, della balneabilità del mare di Pescara. Come la vede questa situazione e soprattutto qual è la posizione del Comune? Io come sempre ho piena fiducia nell'operato della magistratura e così come in passato sono fiducioso di poter esprimere le mie ragioni delle competenti sedi perché credo sempre che uno si debba difendere nel processo. Per il resto io voglio sottolineare e rivendicare le azioni concrete che questa amministrazione ha svolto sul fronte dell'inquinamento perché le cattive condizioni del nostro mare dipendono dalle cattive condizioni del fiume. Noi per il nostro tratto di competenza abbiamo lavorato assai durante quest'anno non solo con un'attività di monitoraggio dei dati ma con un'attività concreta di tappamento, come si suol dire, di una serie di scariche. Potrei fare un lungo elenco da Via Sacco alle Mainarde, a Fosso Valle Lunga, a Fosso Acquaviva, al Ponte Nuovo, al Ponte della Libertà. E poi c'è la sensibilizzazione rispetto ad un fronte istituzionale più ampio perché è ovvio che il fiume Pescara sfocia a Pescara ma attraversa lungo i suoi 152 chilometri di corso tre province abruzzesi, l'Aquila, Chieti e appunto Pescara. Ed è necessario, come si sta facendo, un'attività coordinata con in testa Regione Abruzzo per lavorare concretamente sul fiume. Cosa bisogna fare? In primo luogo l'efficientamento del sistema della depurazione complessiva. Su Pescara ci sono dei soldi, sono già partiti dei lavori. Naturalmente le questioni complesse non si risolvono con la bacchetta magica ma con il lavoro quotidiano e duratura. Il sindaco ha la necessità di affrontare e risolvere i problemi, non si può limitare a denunciarli o a enfatizzarli.